Abbiamo dedicato questa storia ai nostri figli, ai nipoti, ai cuginetti, agli amici più piccoli. È un'avventura, la vincente storia di un ragazzo, Pietro Giulio, che decide di andare in America in cerca di fortuna. La trova, ma poi, richiamato in patria dalla prima guerra mondiale, decide di restare per lavorare per una grande marca di pneumatici. Pietro Giulio è un ragazzo brillante e competente. Per le sue capacità gli viene affidata l'occasione della vita, le redini della fabbrica del signor Limonieri, che è momentaneamente in crisi. Pietro Giulio prende le briglie, porta la fabbrica fuori dalla crisi e inizia a concepire la più importante e diffusa tra tutte le Limonieri. Nel 1936 Pietro Giulio ordina la progettazione della più famosa tra le Limonieri, quella che sarà prodotta in 5 milioni di esemplari ed ininterrottamente fino al 1990. È un'autentica avventura. È emozionante. È una storia vera. È illustrata. È da colorare. È una via per accendere la passione. È una via per le emozioni. Per riconoscere i valori. Le speranze. La fantasia. La storia. Pietro Giulio e la Due Cavalli. In prevendita da oggi.